Eh Cagliardini Si Showman calvarese Buttane fuori un altro Va Showman Showman Pagliaccio Si Questa Inter mi ci vuole Il defibrillatore Io ce l'ho pure Ce l'ho pure il defibrillatore perché sono un soccorritore ma che bello 3-1 si ditemi che sono pazzo questo è altro per l'Inter iscriviti al canale guardate i video ciao